Ciao a tutti, la borsa che preferisci rivela tratti importanti della tua personalità. Allora, sappiamo che la scelta delle donne, delle borse, è un qualcosa, diciamo, di importante. Vediamo un attimino che cosa rivela della personalità. Prima, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, cosa rivela, diciamo, la scelta della borsa? Andiamo a vedere. Allora, vediamo la borsa a zaino, le donne che preferiscono la borsa a zaino. Allora, che cosa esprime questo? Sono donne che sentono bisogno di esprimersi liberamente senza aderire alle norme sociali. Cioè, sono le cosiddette anticonformiste. Rivendicano di essere indipendenti, rivendicano il fatto di non temere il giudizio e lo esibiscono, diciamo. Hanno dei tratti, quindi, anticonformistici e una ribellione contro la massificazione. Poi abbiamo le donne che preferiscono la pochette. La pochette, quelle borse piccole, diciamo così, simili al portafoglio. Allora, quali sono le caratteristiche, diciamo? Sono donne che non vogliono pavoneggiarsi con una grande borsa. Sono orgogliose di come sono. Sono spesso vestite di conseguenza. Perché la pochette è anche un modo per manifestare comunque la femminilità. Quindi, di solito, manifestano donne che utilizzano abiti attillati, gonne attillate o anche jeans attillati. Tutti strumenti, diciamo, per affermare la propria femminilità e il proprio potere di seduzione. Quindi hanno come obiettivo quello di suscitare, diciamo così, interesse sia nel partner o anche negli uomini in generale. Poi abbiamo le donne che scelgono la donna firmata. Queste tipologie di donne sono donne che hanno l'ambizione, diciamo così, di elevare il proprio status sociale. Sappiamo che la borsa firmata, diciamo, non ha nessuna caratteristica diversa, no? Funzionalità diversa rispetto al tipo di vita che fa, cioè al tipo di funzione, insomma. Però, quindi, hanno proprio il bisogno, il desiderio di elevare il proprio status sociale, di riconoscere, di avere l'ammirazione degli altri e vogliono, diciamo, vivere la competizione soprattutto con altre donne. Quindi sono un po' gelose delle altre donne. Quindi hanno proprio l'esigenza di suscitare l'invidia, mostrando, diciamo così, al mondo di essere arrivate, il loro successo, mostrando questa caratteristica, insomma. Poi abbiamo la borsa, la tracolla. Le donne che indossano la borsa a tracolla vogliono sembrare semplici, disinvolte, e però nel frattempo sprigionare un fascino naturale, diciamolo così. Talvolta si comportano un po' in modo infantile, perché rappresenta proprio una personalità, da un certo punto di vista, un po' infantile. Però, comunque, cercano di dimostrare in qualche modo la loro autenticità. E poi, per finire, vediamo le borse di stoffa. Le donne che scelgono questo tipo di, diciamo, di borsa, di tessuto, sono molto originali. Quindi è la creatività, il tratto fondamentale della loro personalità è la creatività, l'essere, diciamo, un po' artiste, un po' la borsa preferiscono, le donne che hanno comunque, in qualche modo, una vena artistica dentro di loro. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!